ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast corriere c'è come al solito vi faremo compagnia per qualche minuto della vostra giornata e vi racconteremo le news più importanti del mondo ciao a tutte e ciao a tutti buongiorno questa è la seconda volta che mi vedete qui in video probabilmente mi ascolterete in podcast qualche giorno dopo e noi siamo qui oggi per una ragione perché parleremo dell'eurovision song contest stiamo registrando questo video sabato 14 maggio stasera mi pare sì ci sia la finale quindi vi parleremo un attimino di questa situazione che ci tiene un pochettino tutti in fermento comunque quelli che seguiranno questa manifestazione prima di partire saluto alla regia andrea caprarelli ciao andrea e di fronte a me saluto guglielmo ferrazzano l'altra penna l'altra voce di questo podcast cortiani o segue a tutti voi allora signore e signori come vi ho anticipato oggi parleremo dell'eurovision song contest ovviamente non vi racconteremo tutta la storia della manifestazione che sicuramente avrete letto da qualche parte non è neanche l'intento di quello che noi vogliamo fare oggi con questo podcast più che altro vogliamo farci una chiacchierata su questo evento che comunque è un evento di portata internazionale se proprio vogliamo di portata europea e che vede fortunatamente per noi quest'anno una città italiana torino in grande fermento perché ricordiamolo l'anno scorso i maneskin hanno vinto sanremo prima l'eurovision song contest e quindi noi quest'anno siamo risultati ovviamente per ovvie ragioni paese ospitante ci sono un po di cose guglielmo che ci possiamo dire su questo momento di grande insomma di grande festa di grande convivialità mettiamolo in questo senso e di grande scambio interculturale che sta avvenendo a torino è bello girare per le strade di torino io amici che sono lì e fanno mi mandano story insomma vedo le loro instagram stories nelle quali insomma loro chiacchierano con persone chi dalla spagna chi dalla germana chi dalla finlandia insomma è una bella cosa quella che sta succedendo a torino assolutamente infatti stavamo pensando di costruire una sorta di song contest anche sull'alto casertano diretta dall'onorevole andrea caprarelli che dalla regia con silenzio preme piggia bottoni allora che dire prima di tutto l'anno scorso i maneskin o i moneskin se la pronuncia è corretta io la dico all'italiana maneskin a origine danese il termine l'anno scorso hanno vinto quest'anno damiano invece un po zoppicante perché pare essere inciampato durante la registrazione di un video però sono sempre stati tonici giustamente polemici e voglio partire da una frase che ha detto damiano il front man o meglio dire da una riflessione che faceva e c'è che sul conflitto in ucraina non si può essere imparziali bisogna prendere una posizione partiamo dal presupposto che come abbiamo sempre detto nei nostri podcast la verità assoluta la conoscono solo i protagonisti di questo conflitto e molto spesso la storia riserva delle sorprese particolari partiamo dal fatto che la guerra è sbagliata a prescindere ma più che agganciarci magari all'invito di damiano di di essere pro ucraina contro russia forse un po per stare tutti e più seri però pro pace contro la guerra poi che ognuno riesca a costruirsi le sue opinioni in base anche a quelle che sono le informazioni dico purtroppo perché l'informazione in questi casi molto spesso è inaffidabile perché arriva dai territori di conflitto quindi in queste ultime ore c'è un po un dibattito sui maneskin che va detto sono sempre state molto coerenti sulle loro posizioni e sanno anche far casino a modo loro e c'è questa riflessione che altro stasera è una scaletta molto particolare perché l'italia si presenta al nono posto ci esibiremo a partire dal nono posto in primo in pole position diciamo c'è la repubblica cieca poi la romania il portogallo finlandia e svizzera queste le prime cinque posizioni e ricordiamolo che questa sera ci saranno 25 esibizioni insomma per la per la serata per la serata finale e noi partiremo in una posizione c'è molto probabilmente ci esibiremo come nono ci esibiremo ma mood e blanco si esibiranno insomma come come con la canzone e brividi che ricordiamo vinto sanremo e come come non insomma è piccola chicca della serata insomma giusto per mantenere un attimino quella continuità con uno degli ultimi podcast che abbiamo fatto la settimana scorsa perché se vi ricordate abbiamo avuto come ospite matilde italiano che abbiamo parlato di spazio di samanta cristoforetti di cose fighe questa sera ci sarà proprio il collegamento comunque si spera che ci sia il collegamento con samanta cristoforetti proprio dalla stazione spaziale quindi è proprio il caso di dire noi abbiamo fatto un podcast spaziale la scorsa settimana stasera sarà un eurovision son contest spaziale perdonatemi sta battutina questa freddura ma tu immagini se samanta diretta canta una canzone quella canzone cioè lei essendo plurilaureata pluritalentosa vince l'eurovision vince l'eurovision prima edizione dallo spazio ormai con i programmi tv non possiamo che aspettarci sorprise poi c'era quest'altra battuta c'era il meme di di amadeus che girava per per la rete perché sappiamo il festival di sanremo invece si prolunga sempre per gli orari più poco consoni e allora la faccia un po sbalordita di c'è questo meme la faccia sbalordita di amadeus quando il pubblico le persone gli fanno notare che si può andare veloci scaletta perché all'eurovision si è un po più spediti praticamente esatto esatto no ricordiamo questo ricordiamo insomma questo particolare che come per chi non dovesse saperlo insomma l'eurovision son contest contest andrà in diretta a partire dalle 20.45 quindi immediatamente dopo il telegiornale sul rai 1 sarà in eurovisione e quindi insomma praticamente il canale anche se ci state seguendo dall'estero sappiate che è possibile seguirlo anche se siete all'estero insomma sui canali della rai disponibili disponibili all'estero inutile dirvi che si tratta comunque sempre di una manifestazione di un certo livello con canzoni di un certo livello io sono sincero alcune tra le canzoni mi piacciono probabilmente sarò banale ma la canzone dell'ucraina a me piace tantissimo dei rappresentati dell'ucraina piace tantissimo sono sincero anche quella di mammo de blanco mi piace però per la vittoria la vedo un pochettino difficile l'anno scorso i moneskin o maneskin insomma scegliete voi la pronuncia secondo me partivano un pochettino più avvantaggiati perché effettivamente il rock è veramente uno dei pochi generi che riesce ad accomunare anche estrazioni differenti paesi differenti insomma e nonostante fosse un un pezzo cantato in italiano sono un po di parte rocker inside quindi insomma era era secondo me molto più facile quest'anno la vedo un pochettino più dura però ricordiamo l'eurovision song contest ha anche questo merito di mettere insieme le canzoni più belle almeno dell'ultimo anno e quindi noi ci auguriamo che sia sicuramente un bello spettacolo non saremo sicuramente da meno non ci faremo apprezzare rispetto alle edizioni precedenti basta io penso che noi da questo punto di vista ci possiamo anche fermare vi abbiamo giusto lanciato la pillolina del dell'eurovision song contest anzi se avete visto questi 5 6 7 minuti di video io vi chiedo scriveteci nei commenti il vostro pronostico se avete ascoltato le canzoni fateci sapere quale secondo voi è la papabile vincitrice di questa edizione dell'eurovision song contest e perché no ci dite anche qual è la vostra canzone preferita guglielmo grazie una chiacchierata veramente lampo da caffè esatto questo è pillole di podcast firmato corriere c'è grazie a te guglielmo grazie ad andrea che si mostrerà come al solito grazie andrea ti rifacciamo gli auguri per il tuo compleanno che ricordiamo essere oggi sabato 14 maggio grazie a voi che ci avete seguito in video grazie a voi che ci avete ascoltato come podcast e noi ci rivediamo alla prossima puntata ciao